Ti fossi fatto prendere un anno fa, il piatto è pieno di zecche, queste sono mini zecche, ora ve la faccio vedere, poi disinfetterò la pinza. O era meglio prendere un'altra pinza qua, perché questa la utilizzo per tutti. Dove la prendo la pinza? Qua sul bancone, la vedi? Questa è una zecche, la vedete? Le zampette. Maledette! Questa è una zecche. Essere inutili bastardi. Qua ne ha un'altra, altre zecche, queste sono zecche, piccole zecche, non so se si vedono, ma sono tutte zecche. È un vaso di zecche il gatto, zecche e acari. Intanto cacciamoci subito queste zecche, che queste sono pericolose pure per l'uomo. Qua ne ha un'altra zecche. Si mette un po' di al collo. Ma questa è staccata. Vieni qua, bellino. Allora, l'altra zecca è qua vicino all'occhio. Ce l'ha. Raffreddato, cotto. Guarda, questa è incollata. Queste sono attaccate. Ma che grossa, schifosa, bastarda. E queste ancora non erano gonfiate a succhiagli il sangue, queste sono neonate, zecche piccole. Zecche neonate. Bellino mio, come sta patato? Bastarda.